Il Vangelo di Gesù Leggiamo la prima profezia Proclamazione del Messia Padre nostro che sei nei cieli Vestaci Ah 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 Ah, ci fai gli applausi Grazie Bravo Sta registrando eh Oh, voi comprendete il video Che è la moglie Sì, tanto iniziale No, noi ci abbiamo Facciamo l'intervista Dice Barani qua Anche a Metropoli Marani dice Barani Calma, facciamo l'intervista Inquadrami Magna, mi picchia Ah, siamo della Rai Ah, magna Fermalo Se ne è per primi noi Il gozzo Il gozzo Comunque Andre, Andre Tutta colpa sua picchiatelo Magna Oh, dobbiamo trovarti l'ultimo Magna Magna Cos'è vento, sono già pronto Eh, vai Magna Magna Registrata Se vuoi sancare la pedaliera No, deve registrare questo Prendete l'Olli Prendete l'Olli però Il piano della paglia, è andata al fuori fuoco la paglia, è un po' diverso, ok, dissolvenza e poi sto, guarda, il bassista e il chitarista, due trughè, e qua il trugato.